Quanto mamma vivo di te cosa ne hai mai detto che ti ho avuto di te ne? I le modi di un peccato di te. E' la tua mamma. Papà non vuole un amore di Gesù Cristo. E' l'indirà il mio amore che sa. A un vi c'è. C'è che è il gioco. Se è mai detto. Chi è che non vuole un peccato di Gesù Cristo. Amore di Gesù Cristo. Con il mio amore. Io qui ci ti devi sempre. Qual è la²a di Gesù? L'aria di Gesù Cristo. E' che chi è che non vuole un paese di Gesù Cristo. E' che non vuole un paese di Gesù. E' che non vuole un paese di Gesù Cristo. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, 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 non è vero. Non è vero. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Non è vero. Sì. Non è vero. 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 ah! non è vero. non è vero. grazie a tutti 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 a tutti